Nata a Roma nel 1939. Figlia d'arte degli attori Giotto Tempestini e Anna Di Meo. Inizia da bambina nel 1944 a lavorare nel doppiaggio e in teatro. Spesso accanto ai genitori, ha dato la voce, fra le altre, a Meryl Streep, Barbara Strayson, Audrey Hepburn, Julie Andrews, Joan Woodward, Julie Christie, Ursula Andress, Sandra De, Shirley Macklin, Susan Sarandon, Sally Field, Jane Fonda, Faye Dunaway, Vanessa Redgrave, Mia Farro, Romy Schneider, Catherine Deneuve, Jane Seymour, Cher, T.P. Edren, ha doppiato inoltre, per sei stagioni, 150 episodi, più due film. Il personaggio della DR. SSA Micaela Queen, alias Jane Seymour, nella celebre serie TV La Signora del West. Attiva anche nel cinema d'animazione Disney. Ha dato la voce alla principessa Aurora nella Bella addormentata nel bosco. A Anita Radcliffe nella carica dei 101. Oltre che al personaggio di Mary Poppins. In questi film è sostituita nelle parti cantate da Tina Centi. Più recentemente ha doppiato la strega Gothelin Barbie Raperonzolo. Ha interpretato anche spot pubblicitari e nel 2006 ha fatto una piccola apparizione nella quinta. Stagione della serie televisiva Un medico in famiglia. Nel ruolo della madre di Emilio Villari.